questo canale contiene i mie personali opinioni se non siete in grado di farvi una risatta si sente che c'è quindi era una cosa buona però, devastante impiona per rotondare e quindi era una cosa buona devastasta stupefatto mettete like al video se avete piaciuto commentate sotto nei commenti seguitemi anche su instagram sul canale telegrame consiglio di non guardare il video Buonasera ragazzi bentornati in un nuovo video del piadinario dello svapo questa sera proverò la V-Stick Pro by Qua Wins mi è stata gentilmente inviata da RSM Svapo a San Marino e assieme a questa mi hanno anche mandato una scatolina di filtrini di ricambio e una scatola con dentro tre pod di ricambio adesso andiamo a vedere subito cosa c'è dentro la nostra scatola e come si fa ad usarla ecco qua ragazzi apriamo la scatola che io ovviamente avevo già aperto e dentro troviamo la nostra V-Stick un cavetto per la ricarica con l'USB-C per la ricarica rapida e due filtrini di ricambio dopodiché un'istruzione su come ricaricarla un certificato di autenticità la warranty card e uno user manual dopodiché abbiamo questi che sono i nostri tank di ricambio con le nostre resistenze le nostre testine e abbiamo tre testine e tre filtrini io ovviamente ne ho già utilizzati due per fare delle prove e infine abbiamo questi che sono solamente i filtrini da inserire qua sopra adesso andiamo a vedere la nostra V-Stick allora qua abbiamo inciso il loro marchio qua dietro abbiamo la scritta V-Stick Pro marchio CE nella parte inferiore abbiamo l'USB-C per la ricarica rapida e vi garantisco che è veramente molto rapida e qua all'interno abbiamo i nostri contatti e il nostro foro per l'aria mentre le nostre testine sono queste qua sono molto grandi ma bisogna inserire anche il filtro quindi il filtro deve entrare dentro e quindi è giusto che siano così grandi finito viene così questa è la parte superiore che è anche l'alloggio e il camino per il nostro filtrino qua sotto solamente nella prima dobbiamo rimuovere la pellicola di sicura e come potete vedere abbiamo il nostro contatto quindi positivo e negativo e quattro fori per l'aria ora andiamo a ricaricarla con il liquido apriamo il nostro serbatoio con il nostro tappino andiamo a ricaricare con il liquido io al momento sto utilizzando le sigar della linea 4Pod della tabaccheria che non sporcando niente si presta benissimo ad essere utilizzato qui dentro dopodiché andiamo a chiudere finché hanno sentito il clicchettino a inserirlo qua dentro e come noi lo inseriamo fa una vibrazione e si illumina il led qua sotto andiamo ad inserire il nostro filtrino attendiamo un minuto e poi andiamo a provarla però questa ragazzi è un anello di congiunzione incredibile fra la sigaretta tradizionale e la sigaretta elettronica definitivo innanzitutto vi dico già che quando voi svapate il led qua sotto diventa blu se lampeggia rosso 8 volte vuol dire che la connessione fra batteria e pod non va bene questa qua quando voi la inserite ricordatevi che dovete sentire che vibra così siete sicuri che parte se invece lampeggia 10 volte vuol dire che un vostro tiro è durato più di 8 secondi e quindi per non farvela bruciare lui stacca e vi fa un lampeggio rosso di 10 volte infine ogni 20 svapate consecutive vi fa una vibrazione di 1 secondo per ricordarvi che basta avete svapato l'equivalente di tra virgolette una sigaretta e quindi anche per chi si appresta a svapare questa qui per la prima volta più o meno sa quando è il momento di fermarsi adesso continuo a svapare perché mi piace da matti la prima cosa che si sente è la secchezza allora io sto svapando qui dentro il 4pod il le sigar quindi quello con che si dovrebbe sapere di sigaro e l'aroma è fedelissimo anche perché è stato sviluppato per le pod quindi va da dio il livello aromatico di queste testine qui è molto molto alto cioè si sente tutto è perfetto e soprattutto con questi liquidi che io ho provato dentro per i coni 4pod è è eccezionale veramente una qualità incredibile questo filtrino qui cosa fa? innanzitutto vabbè vi dà l'idea del filtro della sigaretta però non è soltanto una questione di abitudine ma vi secca molto il liquido quindi a chi piace il tiro secco e il vapore meno pastoso ma più asciutto questa è eccezionale a me piace tantissimo e io la consiglio a tutti perché comunque da provare con dentro un buon tabacco è buona cioè io la sto svapando da due giorni e mi piace cioè la sto alternando a sistemi high end perché mi piace la quantità di vapore è perfetta è anche abbondante questo filtrino qui adesso ve lo vedete che è perfettamente bianco e asciutto ma dopo un po' che lo usate per esempio questo test qua come potete vedere si bagna con il vapore del liquido e vi fa vedere che sta tenendo dei liquidi e quindi capite il tipo di lavoro che va a fare in maniera meccanica sul vostro vapore adesso io consiglio di comprare assieme a questi anche una scatolina di ricambi per i filtri ma non perché ogni tank dovete cambiarlo o perché vanno via come il pane come si dice qua da noi ma semplicemente perché le testine durano più del filtro adesso il prezzo non lo so esattamente ma credo che non costino tanto e quando il vostro filtro si bagna fino a sopra la riga del mezzo io consiglio di cambiarlo ma vi dico che non cambia cioè non è che se è bagnato fino lì l'aroma è diverso o vi schizza in bocca assolutamente no finché non arriva il liquido nelle labbra è perfetto io lo consiglio di cambiarlo perché uscite di casa e siete già a metà non arrivate fino in fondo ma è eccezionale è un prodotto veramente ottimo voto 10 più stra mega consigliato a tutti soprattutto a chi sta utilizzando una Icos questa è molto meglio è veramente molto meglio metteteci dentro un e-sigar della linea for pod della tabaccheria vi scordate le sigarette e vi scordate la Icos veramente eccezionale si ricarica in un quarto d'ora con l'USB-C la batteria da 400 mAh ma consuma veramente poco e poi si ricarica veramente in 10-15 minuti è velocissima il tempo di risposta da quando voi tirate a quando vi emana il vapore è istantaneo non cioè l'unica cosa che posso dire con estrema sincerità è che qui davanti ho il miglior prodotto per smettere di fumare che ci sia mai stato da quando c'è lo svapo pratico e comodo poi c'è anche tanta altra roba però questo qui secondo me al momento di uscita che è adesso per far smettere di fumare una persona sia che sta fumando sigarette sia che sta utilizzando una Icos questo è il miglior prodotto che c'è in commercio e lo dico con estrema sincerità mi ha affascinato da subito e continuo a farlo quindi è il segno che funziona io lo sto svapando da due giorni consecutivamente per cercare di trovargli un difetto ma non ho trovato un difetto detto questo ragazzi vi saluto vi invito iscrivervi al canale vi invito a passare da RSMS Vapo per provarla o per acquistarla la distribuzione per i negozianti è da parte di Vapitalia noi ci vediamo mercoledì sera con una mitica live e vi auguro una buona serata